Il gioco d'azzardo sta diventando gravemente patologico. Le slot machine dal tabaccaio piuttosto che nel bar all'angolo, in luoghi fuori dal classico legalizzato casino, hanno fatto suonare un nuovo campanello di allarme. Sempre più casalinghe, studenti e disoccupati, speranzosi di vincere qualche spicciolo, sperperando denaro, inserendo monete nelle diaboliche macchine e mangia soldi. Si continua a dibattere, ma sino ad ora è difficile trovare la reale applicazione di norme e di leggi. Le slot non devono essere installate in locali vicino a scuole, oratori, strutture socio-canitarie, chiese, sportelli, bancomat. Si chiede una distanza di almeno 500 metri. Provate a verificare e scoprirete che in molte località le distanze non vengono rispettate. La normativa è di competenza delle regioni. In molte, in troppe, non è ancora stato fatto nulla, se non poco. In Piemonte, invece, da alcuni giorni è entrata in vigore la legge per contrastare il gioco d'azzardo. Solo nel Cunese, tanto per fornire un primo dato, sono state spente 1800 macchinette su 2600. È in vigore il distanziometro, la mappatura dei locali a relative distanze dai luoghi protetti. Ma, oltre alle distanze, spesso non venivano neppure rispettati gli orari. Le slot all'angolo sono un vero dramma per molte famiglie. Ed è ora che la legge dica basta e, in senso antigioco, lanci il suo non venivano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!